buon pomeriggio e ci incamminiamo piano 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 verso la serata non intanto che ogni tanto perché sta a noi qualche colpa di tos bene ma veniamo in questo ultimo video della giornata l'anteprima della puntata odiana di friday night smackdown dove innanzitutto avremo l'ufficiale incoronazione del capo tribù ha detto anche il capo tribale roma reigns campione universale inoltre ci sarà una sfida titolata il fresco vincitore dell'un dispute di intercontinental championship semi zain affronterà jeff fardy ed inoltre che vi no non so com'è ma perché lui in realtà è dirò terrà il suo che è un show a smackdown con ospite alexa bliss in quello che potrebbe essere un segmento interessante per capire diciamo se effettivamente alexa bliss e può essere al 100 per cento la sister epica quindi il tutto lo scopriremo domani o meglio la puntata nella nottata tra oggi e domani i metodi per guardarlo su web per chi è americano su fox o per chi è italiano su su dplay plus per chi ha l'abbonamento domani vi dico subito se riesco quest'oggio a registrare di archivi una puntata del deluxe zechillo show domani sarà pronta o meglio magari la potrei pubblicare già da oggi e renderla pubblica domani bene grazie a voi tutti e come detto ci vediamo domani con altri video ciao